Ardorlazzate-Varesina è sicuramente il main event della seconda giornata del campionato del girone A di eccellenza. La partenza dei padroni di casa è a mille all'ora, la palla dentro di Donofrio per il destro, in corsa di Artaria, la risposta di Spada Vecchia. Ardorlazzate nei primi minuti mette in difficoltà la Varesina, quest'azione da calcio d'angolo nella testimonianza, palla dentro di Ronchi e al centro dell'area di rigore e una mischia furibonda in area con la pressione dei giocatori dell'Ardorlazzate è risolta in qualche modo dalla difesa della Varesina. I Fenici si riorganizzano e assestano il primo tentativo, la palla dentro di Sogno, Tomasini cerca l'anticipo su Dastoli e viene colpito o no, questo decidetelo voi. Bernardi si fa male, è costretto a uscire, al suo posto entra Schieppati e al 25esimo si vede Poesio con una bella serpentina dal 20 metri la conclusione con il sinistro che termina larga, non di molto alla sinistra di Bozzato, poi ancora Varesina che cerca con i cambi di gioco di impensierire la difesa ben chiusa dell'Ardorlazzate, il tocco di Tomasini per lo scatto di Neasvi, tiro deviato, si deve distendere Bozzato e deviare in calcio d'angolo. Donofrio col suo mancino prova a spaventare Spada Vecchia ma il pallone va lontano dalla porta, non tantissime le emozioni anche nel secondo tempo con la Varesina che ci prova con questa palla dentro di Mira, il pallone per Schieppati sulla sinistra, il cross è perfetto, super abbozzato, Tomasini però manca l'appuntamento con il gol sul secondo palo col destro, non riesce a deviare in rete, due minuti dopo ancora Tomasini in venta col mancino questa volta bene per Sogno che è leggermente in anticipo rispetto al pallone, poi entra anche Sarra e la sua sponda che arma al destro di Mira, non è il sinistro e si vede il break a centrocampo di Peverelli, prova la conclusione con il destro, controlla agevolmente Spada Vecchia, poi al novantesimo viene espulso Spilli e arrivano le due occasioni più ghiotte per gli ultimi minuti, prima per la Varesina con il cross di Neasvi, il controllo di Poesio che riesce a girare bene, non dà troppa forza, il pallone finisce centrale tra le braccia di Bozzato, il miracolo di Spada Vecchia, tiene a gala la Varesina al minuto 93, Manta rientra sul destro, calcia, deviazione di Mira, sembra abbattuto il portierone delle Fenici che ha un riflesso da altri tempi e riesce a deviare in calcio d'angolo mantenendo il punteggio sullo 0 a 0.